Capitolo 16 Grover tira fuori i canzoni per serpenti Il pomeriggio successivo tornai con i rinforzi. Quando dissi ad Annabeth e Grover dove stavamo andando, mi guardarono in modo strano, ma non fecero domande. Il centro di Yonkers rientrava ampiamente nella nostra deviazione standard di stranezza. Non mi fu dato sapere cosa pensassero gli altri passeggeri del fatto che in metropolitana mi portassi appresso un bastone. Forse mi etichettarono come un pastore che faceva il pendolare tra la città e i pascoli. Grover, essendo Grover, aveva con sé uno zaino pieno di snack e il suo flauto di pan. Perché non sai mai quando ti può venire voglia di ballare una giga sgranocchiando barrette di mais con panna acida e peperoncino. Annabeth aveva messo nello zaino un sacco di cose utili, come il suo pugnale, torce elettriche e un termos con una bevanda che speravo fosse più potabile dell'acqua del fiume. Alle quattro eravamo nel letto del torrente e scrutavamo dentro la bocca del tunnel. Grover annusò l'aria. Questo sarebbe il fiume più pulito del mondo? È così perché le furie e i serpenti ci hanno fatto il bagno, spiegai. E chissà cos'altro, aggiunse Annabeth. Grover immerse una scarpa nell'acqua marrone. Mi sa che non possiamo far rotolare il bastone in questa schifezza e dichiarare chiusa la faccenda. Avevo avuto lo stesso pensiero, ma fui contento che Grover lo avesse esplicitato al posto mio. Dobbiamo entrare, decise Annabeth, distribuendo le torce. Spero che a monte sia più pulito. Teniamoci sulla riva e cerchiamo di stare fuori dall'acqua. Era un consiglio che persino io potevo considerare saggio, ma stare fuori dall'acqua si rivelò difficile. A mano a mano che avanzavamo nel tunnel, le sponde diventavano strette e scivolose. Era impossibile non finire ogni tanto a sguazzare nel torrente. Però le mie scarpe non cominciarono a fumare e i pantaloni non presero fuoco, quindi ipotizzai che l'acqua non fosse poi così tossica. In ogni caso aggiunsi fare una doccia bollente alla mia lista di cose da fare, ammesso e non concesso che quella sera sarei tornato a casa. Un centinaio di metri dopo Annabeth si fermò. Guardate là. Spostò il fascio di luce della torcia lungo il soffitto del tunnel, che era ricoperto di uno strato di muschio e licheni così spesso che non riuscivo a capire se sotto ci fosse asfalto sintetico o roccia naturale. Ovunque si posasse il raggio si lasciava dietro una striscia di luminescenza verde-azzurra. Figo! Con la torcia disegnai uno smile luminoso sul muro. Quanti anni hai? chiese Annabeth. Ne ho fatti otto la scorsa settimana. La battuta le strappò un sorriso. Adoravo farla sorridere quando cercava di rimanere seria. Sapeva sempre di vittoria. Passammo alcuni minuti a incidere graffiti di luce. Grover scrisse Pan Forever. Io AC più PJ. Annabeth tracciò degli archi sovrapposti fino a creare un arcobaleno azzurro e verde. Il muschio continuò a brillare per un bel po', riempiendo il tunnel di una fredda luce turchese. Più avanti il canale si allargava in uno spazio molto più ampio. Il rumore della corrente si fece più forte e più cupo. Entrammo in una caverna così enorme da sembrare un altro mondo. Sotto un soffitto alto come una cattedrale, coperto di stalattiti scintillanti, il fiume si snodava verso nord tra ondulate distese di erba gialla. Alberi color cenere punteggiavano il paesaggio, rachitici e spogli, i rami contorti come dita artritiche. La scena mi ricordò le praterie degli asfodeli nel regno di Ade e il fatto che io possa fare un paragone del genere nello stesso modo in cui voi potreste dire «Oh sì, sembra Midtown», è una dichiarazione decisamente triste nel mio diario di viaggio. Qua e là fioramenti di granito si ergevano in mezzo all'erba come isole, ma l'attrazione principale era il fiume stesso. Si snodava pigramente lungo la caverna, compiendo grandi curve come se non avesse fretta di raggiungere la luce del giorno. Fitti canneti ne bordavano le sponde, l'acqua brillava cupa nella luce azzurra del moschio. Lì sembrava più pulita, l'odore di putrido era sparito, ma in una pozza una ventina di metri a monte decine di creature viscide e untuose, simili a fruste, rotolavano e si contorcevano nelle secche, facendomi passare la voglia di maneggiare spaghetti per il resto dei miei giorni. Che schifo, borbottò Annabeth. Ehi, controlla i tuoi pregiudizi da mammifero, bisbigliò Grover. Anche i rettili sono individui. Dotati di veleno, precisai, e di sangue freddo, e di un morso letale, e... ok, forse tutto ciò descrive anche gli esseri umani. Grover a noi. Grazie. Luce spente, sussurrò Annabeth. Spegnemmo le torce, anche se apparentemente i serpenti non si erano ancora accorti di noi. Erano troppo occupati a divertirsi e a idropulirsi le squame. Scrutai l'orizzonte. Secondo voi riusciamo ad aggirarli senza farci notare e a salire più a monte? Grover annusò l'aria. Qui c'è puzza di mostri dappertutto. Non capisco se nelle vicinanze ci sono altre creature oltre ai serpenti. In quell'erba così alta può nascondersi di tutto. Compresi noi, osservò Annabeth. Se non possiamo combatterli, cercare di evitarli senza farci notare sembra l'opzione migliore. Ok, concordò Grover. Vado io per primo, però. Magari riesco a trovare un sentiero sicuro. Era raro che Grover si offrisse volontario per affrontare per primo un terreno pericoloso. Ne rimasi troppo sbalordito per discutere. Guarda, guarda il mio vecchio amico. Prendere il comando e scendere in campo. A volte dimenticavo che non era più un giovane satiro protettore spaventato, ma un membro del consiglio dei satiri anziani spaventato. Eravamo cresciuti molto entrambi. Se non altro, Grover era nel suo elemento, supponendo che quella raccapricciante grotta si potesse considerare natura. Arrancammo in mezzo a steli d'erba affilati come lame di seghetto che ci arrivavano fino al collo. Grover riuscì a farci evitare i punti più fitti, ma io sussoltavo ogni volta che uno stelo giallo mi sfregava un braccio. A peggiorare le cose, sotto i nostri piedi il terreno crepitava come pluriball. Supponevo che ogni mostro acquattato tra la vegetazione avrebbe potuto sentirci. Finalmente raggiungemmo una delle isole di sassi. Grover ci si arrampicò come solo qualcuno con le zampe da capra avrebbe potuto fare, poi sbirciò verso il fiume. «Niente di buono!» «Cosa?» domandai. Ci aiutò a salire. Dalla cima vedevamo tutto il fiume dipanarsi davanti a noi. L'ilisso si riversava nella caverna da una fessura nella parete settentrionale, scendeva accascata lungo una serie di sporgenze rocciose e infine si allargava e serpeggiava per la pianura. Ovunque ci fosse accesso alle sponde, in ogni pozza o punto un po' più profondo dove si sarebbe potuto lavare un kerry cajon lercio, l'acqua pullulava di serpenti. A centinaia!» Grover cercò di essere positivo. «Almeno non vedo furie». «Già, ma questa settimana niente spaghetti nel menù per favore», replicai. «Cosa?» fece lui indignato. «Adora gli spaghetti». «Come non detto», mi affrettai a rettificare. Annabeth esaminò il fiume. «Che ne dite di provare là?» indicò l'estremità settentrionale della grotta, dove il fiume scavava una gola negli ammassi disordinati di granito. «L'acqua sarà più pulita in quel punto. Non c'è accesso per i serpenti. Probabilmente la corrente è troppo forte per loro». «E per un figlio di Poseidone no?» chiesi. Lei si strinse nelle spalle. «Vale la pena provare». «Solo che non riusciremo mai ad arrivare fin là senza essere scoperti. E se i serpenti iniziano a inseguirci, quanto veloce pensi che possano strisciare?» Grover rabbrividì. «In mezzo a quest'erba? Molto più di noi». «Sarebbe bello avere le scarpe alate di Luke?» fece Annabeth. Grover sussultò. «Ti prego, è troppo presto». Cinque anni prima, quel paio di scarpe maledette aveva quasi trascinato Grover nel tartaro. Traumi del genere lasciano delle cicatrici. Ma ciò che mi sorprese di più fu che Annabeth avesse nominato Luke Castellan, un nostro vecchio amico diventato poi nemico. Dalla battaglia di Manatta non aveva più pronunciato il suo nome. Che lo tirasse in ballo proprio in quel momento, sembrava quasi di cattivo auspicio. «Ho un'idea», annunciò Grover. «È terribile, ma potrebbe funzionare». Annui. «Già mi piace». Tiro fuori il flauto. «Voi due andate verso la scarpata. Io vi tengo d'occhio da qui. Se ce la fate, fantastico. Se invece i serpenti iniziano a spostarsi verso di voi, dovrei essere in grado di vederli muoversi nell'erba. A quel punto li distraggo con il flauto. Conosco delle belle canzoni per serpenti». Ecco un altro talento di cui non sapevo Grover fosse dotato. Incantatore di serpenti. «Non appena inizierai a suonare, attaccheranno te», gli fece notare Annabeth, che immagino sia la parte terribile. «Sarà persino peggio delle galline delle betudine», azzardai. «Già, infatti la cosa non mi entusiasma», confessò Grover. «Ma, come ha detto Annabeth, sono quello che corre più veloce. Forse posso farvi guadagnare un po' di tempo. Se sentite il flauto, significa che il tempo stringe e sarebbe bene che vi sbrigaste. Andate a lavare questo benedetto bastone di iride. Ci vediamo all'uscita!» Io e Annabeth ci scambiamo uno sguardo. Noi due da soli avevamo intrapreso un sacco di missioni pericolose, ma lì non avremmo mai potuto avanzare di soppiatto senza la nostra supercapra che ci facesse da guida. E poi non mi piaceva l'idea di usare un'altra volta Grover come esca. D'altra parte il nostro amico era lanciatissimo con la faccenda del satiro coraggioso. Non volevo pensasse che dubitavo di lui. «Va bene», acconsentì. «Stai attento!» Era come dirgli di vincere alla lotteria perché sapevamo tutti quante probabilità c'erano che le cose andassero per il verso giusto. Annabeth lo abbracciò. «Speriamo di non arrivare alle canzoni per serpenti». Poi si calò giù dal masso e si aprì un barco nell'erba. La seguì perché ero io il ragazzo con il sudicio caduceo. Nel giro di pochi metri l'erba divenne più alta di noi. Le canne seghettate mi strappavano i vestiti. Ogni volta che ci muovevamo gli steli ondeggiavano e frusciavano. Se avessimo avuto dei segnali lampeggianti con scritto «Cibo gratis per serpenti», forse avremmo attirato di più l'attenzione su di noi, ma non di molto. Il rumore della cascata ci aiutò a procedere verso nord. Tenevo gli occhi a terra, cercando di muovere ogni passo nel modo più cauto e silenzioso possibile. Camminavamo così lentamente che avrei voluto strisciare fuori dalla mia stessa pelle per l'impazienza. Il fatto che continuassi a immaginare serpenti che saettavano dall'erba per affondarmi le zanne nelle caviglie non aiutava. Riandai con la mente a quando dei basilischi avevano inseguito me e i miei amici Frank e Hazel per un prato simile a quello in California. A pensarci bene ho passato decisamente troppo tempo della mia vita a giocare a nascondino con rettili letali. Mi sembrò che ci volessero anni per raggiungere il fiume. D'altra parte, dopo l'esperienza nel locale di Ebe, avevo smesso di fidarmi del mio senso del tempo. Finalmente emergemmo dall'erba vicino alla base della cascata. Ci arrampicammo su una serie di massi fino a una scivolosa sporgenza affacciata su un'ampia piscina naturale sei metri più in basso. L'acqua era trasparente come vetro, senza serpenti, e chiedeva a gran voce un tuffo a bomba. Peccato che fosse circondata da pareti di roccia a strapiumbo e non avesse un'evidente via d'uscita, a meno di cavalcare le rapide verso valle attraversando marina di serpente. Potresti saltarci dentro con il bastone, suggerì Annabeth. Certo, il problema è risalire una volta finito, le feci notare. Annabeth tirò fuori dallo zaino una corda e sorrise. Hai pensato davvero a tutto, commentai, cercando di sembrare contento. Quella piscina pareva un po' troppo invitante, e mi ricordai che Iride aveva accennato a un arrabbiato dio del fiume, ovvero il tipo di dettaglio che poi mi avrebbe morsicato le chiappe. Forse prima dovremmo buttar giù un piano? È la tua specialità, no? Pianificare. E poi sentii la musica, l'inconfondibile trillo del flauto di pan in lontananza. Era una canzone che conoscevo grazie alla raccolta di LP di mia madre, Union of the Snake dei Duran Duran. Il cronometro era partito, Grover era nei guai. Tempo scaduto, disse Annabeth. Bon voyage! E mi spinse oltre il bordo. Capitolo 17. Incontro allo chignon del destino. Trovate qualcuno che vi ami così tanto da spingervi giù da una scogliera come ha fatto la mia ragazza? Qualcuno che lo faccia senza esitazione, con piena fiducia nelle vostre capacità, con l'incrollabile certezza.